Buongiorno a tutti, oggi diamo un'occhiata a alcuni esercizi sulle funzioni periodiche, le sinusoidi e i numeri complessi. Praticamente io verso la fine dell'anno scolastico di terza faccio sempre, prima di cominciare ad occuparci delle reti in corrente alternate, faccio sempre un compito in classe semplice che ha come obiettivo costruire delle competenze sul concetto di periodo di frequenza, concetto di valore efficace, sulle relazioni fra sinusoidi, fasori e numeri complessi e poi ovviamente rappresentazione del piano di Gauss e operazione fra questi numeri complessi in forma polare e in forma algebrica. Questi argomenti sono tra l'altro già presenti sul canale perché c'è un video sulle funzioni periodiche, un video sulle relazioni fra le sinusoidi e i fasori e un video sulle applicazioni con qualche esempio di calcolo sui numeri complessi. Quindi noi facciamo questa formativa, questi esercizi li svolgiamo dando per scontato che voi questi argomenti, insomma, li avete già visti tutti. Chi non li ha visti, se lega sul libro o guardi video, perché diamo per scontato, qualcosa lo diremo, però diamo per scontato queste cose, insomma, uno che sa cos'è un valore efficace, sa cos'è il piano di Gauss, sa cos'è la forma polare, la forma algebrica, eccetera, eccetera. Vediamo il testo. Allora diamo un'occhiata al testo e poi vediamo la correzione. Un premesso è un testo, è un compito in classe semplice, molto semplice, si fa un'oretta anche meno. E si tratta di analizzare innanzitutto una funzione periodica, determinando periodo, frequenza e valore efficace. Una classica onda triangolare, sono indicati i valori massimi positivi e negativi. Si vede che è un'alternata dissimmetrica, non è un'alternata perfettamente in scala, ma poco importa. Massimo 10, minimo negativo, meno 5, 40 il semiperiodo positivo e 20 millisecondi il semiperiodo negativo. Quindi, questo ovviamente per dare un'occhiata al concetto di valore efficace, che anche in elettronica è piuttosto importante. Poi, secondo esercizio, abbiamo due numeri complessi, uno in forma algebrica, meno G10, uno in forma polare, radical 2, 10 con angolo di 45. E vogliamo scrivere le sinusoidi in funzione del tempo, con frequenza 50 Hz, e poi disegnare anche questi due vettori nel piano di Gauss, perché bisogna proprio un pochino abituarsi a avere una certa dimestichezza con la rappresentazione dei numeri complessi nel piano di Gauss, perché poi, quando si cominciano a fare cose complesse o magari i diagrammi vettoriali dei circuiti equivalenti delle macchine, una certa dimestichezza serve. Quindi questo, ripeto, è molto semplice, però bisogna addestrarsi un po' a questa cosa. Allora, nel terzo esercizio si dà anche un'occhiata a una rappresentazione del tempo di due sinusoidi, una corrente e una tensione. Qui bisogna essere in grado di apprezzare che quella prima sinusoide, quella grigia, è in anticipo su quell'arancione che è la corrente, quindi quando uno avrà un po' di dimestichezza si accorgerà che questo è un circuito RL serie. Per adesso non entriamo in questo dettaglio. Noi partiamo solo a presupposto che la tensione ha un valore massimo di 28 e 28 e la Imax invece radica il 2 per 4 e lo sfasamento, tensione corrente, sarà 1.047 radianti. Quindi cosa, perché questo esercizio? Per dare un'occhiata, riconoscere il concetto di ritardo anticipo rispetto alle sinusoide e poi ovviamente saper scrivere una sinusoide in forma matematica. L'altro esercizio riguarda alcune sinusoidi espresse appunto in forma temporale. Uno l'ho chiamata I, una V e una Fi. Potevo mettere A, B, C, D o X, Y e Z, ho messo I perché questo è un tipico segnale corrente, nel senso che si studiano spesso i segnali correnti, il secondo potrebbe essere un segnale tensione, il terzo potrebbe essere un segnale sinusoidale tipo flusso, che è una cosa che in quarta si studia quando si comincia a parlare del trasformatore. Si vede già subito che la prima sinusoide è una fase di 60 gradi, perché ormai sappiamo che 1.047, o almeno dovremmo sapere che radianti corrisponde a 60 gradi, così come 1.57 corrisponde a pi greco mezzi e quindi a 90 gradi in anticipo, mentre la terza sinusoide è a fase 0 perché vedete una fase iniziale. E questi sono i valori massimi, anche qui un esercizio che serve a mettere in evidenza il concetto di fase e di valore massimo, eccetera. La pulsazione può restare generica perché tanto dovremmo sapere che la rappresentazione come numeri complessi, quindi simbolica, delle sinusoidi non dipende dalla pulsazione, ossia dalla velocità angolare con cui girano questi fasori. Chi non ha il concetto di fasore e di pulsazione vada a guardarsi il video appunto sui fasori, i numeri complessi e le sinusoidi, o si lega il libro, che è sempre un bel esercizio. E poi 4 esercizi reti di calcolo, numeri complessi in forma polare e in forma algebrica, a volte messi in una forma un po' così, un po' simpatica, tipo 2 con angolo di 90 più 2, che è evidente che 2 più j2, quindi numeratore uguale al denominatore. Ecco, sono 4 esercizi attimi, sono veramente molto molto semplici. Si possono fare praticamente a mano libera senza calcolatrice se uno ovviamente conosce un po' le funzioni trigonometriche fondamentali e sa gli angoli notevoli, tipo 30, 45, 60, eccetera, eccetera. Questo qua 3 più j4 in classe lo si fa sempre, lo uso sempre perché è il classico numero che dà come modulo 5, come l'angolo 53, ed è abbastanza evidente che qua il denominatore è il doppio del numeratore, quindi è abbastanza semplice, come pure sarà semplice il quarto. Quindi sono esercizi semplici, che ripeto si fanno quasi a mano, però, insomma, servono a costruire un po' di dimestichezza. Vediamo poi la soluzione. Allora, primo esercizio, la funzione periodica è questa. È abbastanza evidente che il periodo sono 60 millisecondi, faccio i conti e ottengo una frequenza di 16.66 Hz. Semplice, no? Io devo verificare, proprio devo misurare questo intervallo di tempo, invertirlo per trovare la frequenza. Questo proprio semplice, semplice. Però ci permette di fare già un po' di analisi del segnale, che non fa mai male. E' un periodo più complicato il discorso del valore efficace, perché il valore efficace presuppone lo studio della funzione quadratica. Quindi ho preso la funzione precedente, l'ho elevata al quadrato, elevandola al quadrato le parti negative diventano ovviamente positive. Ripeto, il concetto del valore efficace c'è anche sul video caricato sul canale, se non vi è noto andate a vedervelo. Devo calcolare l'area di questi due triangoli, in buona sostanza. Quello con valore massimo 100 con valore massimo 25. Si fa molto semplicemente il calcolo delle aree base per altezza diviso 2, quindi 40 per cento mezzi e 25 per 20 mezzi. Il risultato è 2250 am per quadro per millisecondo. Attenzione all'unità di misura, perché se faccio il quadrato, anche quando scrivete l'esercizio in classe, state attenti a scrivere l'unità di misura, essere ordinati, perché aiuta anche, oltre che aiutare chi correggia, aiuta anche voi a essere chiari e anche a fare qualche riflessione interessante. Ok? Infatti questa è l'area sottesa ai due triangoli. Il valore medio, cioè il valore quadratico medio, si ottiene facendo A, che è l'area, diviso il periodo di 60. Quindi questo è il nostro valore quadratico medio, che è quello che, per intenderci, sarà più o meno qua. Questo è il nostro valore quadratico medio. Il valore quadratico medio va ovviamente ancora elaborato facendo la radice quadrata. Se faccio la radice quadrata e il valore quadratico medio, ottengo il valore efficace, che, ripetiamolo, che male non fa, è un valore costante equivalente dal punto di vista energetico. Nelle sinusoidi, in terza, evidentemente, questo calcolo è complicato, perché serverebbe l'integrale, che è una roba che ovviamente non attiene al programma di terza, però sappiamo che nelle sinusoidi, lo vediamo negli esercizi successivi, il rapporto fra valore massimo ed efficace è una sinusoide, il famoso radice di 2. Quindi è un concetto che bisogna un po' imparare bene, però bisogna anche sapere fare il calcolo in queste funzioni generiche, in alcuni casi, in elettronica, eccetera, eccetera, è piuttosto utile. Esercizio sulla trasformazione da numero complesso a sinusoide. Abbiamo questi due numeri, evidentemente il primo Y ha solo parte reale, una forma algebrica con solo la parte reale, scusate, senza parte reale, con solo parte immaginaria, quindi tra l'altro parte immaginaria è negativa, quindi parliamo di uno sfasamento di 90 gradi nel piano di Gauss, che poi vediamo dopo. Il secondo è direttamente in forno polare, che è quella più comoda, con un angolo caratteristico, con un argomento di 45 gradi. Ecco, volendo, il primo numero sarebbe modulo di 10 con angolo di meno 90. Questo ci permette di andare a scrivere per il primo numero, radical 2 per 10, che è il nostro modulo. Sappiamo che la frequenza è ipotizzata a 50, quindi da una pulsazione di 314 radianti al secondo, e semplicemente qua metto π mezzi radianti, o 1,57 se preferite. Ricordatevi sempre che l'argomento della funzione seno deve essere sempre in radianti, anche perché poi la pulsazione sono radianti fratto secondo, moltiplicati per il tempo da ovviamente radianti, che è l'argomento della funzione trigonometrica. Seconda, beh, l'argomento è, qui l'abbiamo messo come π quarti, o se preferite in decimali, 0,785, e il modulo è radice di 2, che è appunto il legame fra valore efficace, che è questo, e valore massimo, che è questo qua, e viene 20, perché radical 2 per radical 2 farò ovviamente 2, per 10 fa 20. Vediamo anche la rappresentazione nel piano di Gauss, che è questa, che bisogna, insomma, indicare anche qua, ho messo delle lettere generiche, ecco, z poi si vede un po' più avanti nel corso, che rappresenta l'impedenza, e y l'ammettenza, ma è casuale. Sono lettere casuali in questo caso. Andiamo avanti. Ok, questo è già un pelino più carino, un po' più complicato, però interessante secondo me, perché dovrebbe far capire come andare ad analizzare la funzione temporale di due sinusoidi, in questo caso una tensione, una corrente, di cui conosco i valori massimi, e so che lo sfasamento è 1.047 radianti, che se fate la trasformazione sono i soliti 60 gradi. Quello che bisogna apprezzare è che questa sinusoide tensione è in anticipo sulla corrente, e quindi questo sfasamento deve intendersi in anticipo della tensione sulla corrente, o se preferite corrente a ritardo sulla tensione. Un po' più avanti, verso la fine del terzo anno, si vede che questi diagrammi sono relativi a circuiti RL serie, però adesso ci limitiamo solo a fare un po' di analisi temporale. Quindi il primo step, ovviamente, è calcolare i due valori efficaci dai valori massimi, che ci ricordiamo ancora una volta, si ottengono dividendo il valore massimo per radice di 2, abbastanza semplice, ho messo dei numeri, a me piace mettere numeri semplici perché mi piace che i conti si possano fare quasi a occhio, a mano libera, mi piace così anche per semplicità di lettura, poi se uno deve fare dei conti un po' più strutturati c'è la calcolatrice o il foglio Excel. Andiamo avanti, quindi scriviamo le due grandezze tensione corrente in forma polare come 20, che è il modulo con l'angolo di 60 gradi, che se volete lo mettiamo anche in forma algebrica come parte reale più parte immaginaria, ovviamente primo quadrante del piano di Gauss, e il secondo è un numero complesso che a parte immaginaria nulla, perché è argomento 0. Ricordo ancora una volta, questo video è un complementare ad esempio agli altri che sono già sul canale, come quello sui numeri complessi, che spiega bene la trasformazione fra forma polare e algebrica, qua ovviamente non la facciamo tutta quella teoria, di amper scontato 1 si è già in grado di affrontare un'esercitazione numerica in classe. Ok, poi facciamo il nostro diagrammino vettoriale, il nostro diagrammino vettoriale che è questo qua. Allora, altro esercizio riguarda partire dall'espressione temporale delle sinusoide e ricavare i numeri complessi. Semplice, perché sappiamo che la sinusoide si caratterizza per il valore massimo, che è legato al valore efficace da radice di 2, dalla pulsazione, qua non ci interessa perché non ho messo la forma numerica, perché tanto alla velocità a cui ruota il fasore non è significativa per fare la rappresentazione del piano di Gauss del numero del fasore che supponiamo costante nel tempo. Però sicuramente ci serve la fase iniziale. Qui abbiamo una sinusoide a fase nulla, che è la terza, la gradi. Quindi 60 e 90. Ricordatevi sempre che l'argomento della funzione seno va messo in radianti, anche perché la pulsazione è in radianti al secondo, quindi moltiplicata per i secondi che il t ci dà i radianti, ovviamente vanno sommati ad altri radianti, che sono la fase. Ok? Quindi, molto semplicemente, andiamo a mettere i tre numeri in forma polare, perché la forma polare ci mette in evidenza il modulo che è il valore efficace. Ricordiamoci sempre che quando facciamo la rappresentazione simbolica mettiamo il valore efficace, non il valore massimo, è l'argomento che ricaviamo dall'espressione. Quindi dividiamo il valore massimo per radice di 2, trasformiamo questi radianti in gradi e abbiamo la forma polare che volendo possiamo mettere anche in forma algebrica come parte reale più parte immaginaria con le solite formule che sono modulo per coseno di 60 più j modulo per seno di 60. Ok? Poi sapete che coseno di 60 è un mezzo, seno di 60 radica al 3 mezzi, quindi viene fuori questo risultato molto semplice. Seconda funzione, che ho chiamato V come la tensione, ma è casuale, tra l'altro è stato messo in modo abbastanza esplicito, 50 per radice di 2, quindi è evidente che il valore efficace è 50. Ricordatevi di trasformare sempre l'argomento in gradi, perché è anche più facile. Puoi disegnare tutto sul piano di Gauss. Forma complessa in forma algebrica, ovviamente qua non c'è parte reale, solo parte immaginaria. Ok? Poi l'ultimo che è φ, il numero complesso φ, modulo 10 perché questo altro non è che in forma un po' meno esplicita, radice di 2 per 10, e l'argomento del numero complesso non c'è perché la fase iniziale è nulla. Quindi la forma polare è semplicemente 10. Quindi molto semplice. Rappresentazione del piano di Gauss. Eccola qua. Semplicemente semplice, semplice. Che altro si può dire? Io ho messo dei nomi casuali a questi numeri complessi, poi sappiamo che insomma l'eltrotenica V e I sono di solito a tensione corrente. Ecco questo qua, così anticipiamo che nella quarta si vede che anche i flussi magnetici che si indicano con lettere a φ, si possono rappresentare nel piano di Gauss, qua solo si vede quando si fa il trasformatore, ma non c'entra niente col programma di terza. Scusate, sono andato un po' lungo. Andiamo avanti. Allora, per finire, per forza, alcuni esercizi con numeri complessi. Saranno molto semplici, si possono fare a memoria perché sono veramente numeri molto semplici, sono un po' di dimestichezza. però diamogli un'occhiata insieme. Allora, prima di fare la somma qua bisogna ricavare le due divisioni che sono in realtà molto semplici. La prima perché si tratta di dividere la parte reale, la parte immaginaria del numeratore per J2. Allora, 3 fratto J2 fa meno J1.5 perché 1 su J2 fa meno J. Chi non si ricorda questa cosa vada a vedere se vuole il video sui numeri complessi. Mentre 3 J meno fratto 2 J fa 1.5 perché si semplifica la J. In realtà in questa frazione abbiamo lo stesso numeratore, lo stesso denominatore, come vediamo qua. Perché? Perché scrive 2 con angolo di 90 equivale a scrivere 2 J. Quindi 2 J più 2 fratto 2 più 2 J. Quindi in realtà abbiamo lo stesso numeratore e denominatore. Tant'è che il loro rapporto fa 1. Quindi a questo punto è molto semplice fare la somma delle parti reali. 1.5 più 0.5 che fa 2 più 1 che fa 3 e meno J1.5 più J4.5 che fa J3. Volendo lo mettete anche in forma polare come radical 2 per 3 con angolo di 45 gradi. Perché arco tangente ai tre terzi è uguale a 45 ovviamente. Molto semplice. Secondo calcolo può sembrare complicato in realtà anche questa è una banalità perché se io con lo stesso criterio metto questo numero in forma polare. Partendo dal presupposto che 2 con angolo di 90 uguale a J2 vuol dire che in realtà questo numero 2 più J2 sarà meglio 2 più 2 con angolo di 90 fa 2 più J2 che a sua volta fa radical 2 per 2 con angolo di 45. Allora siccome ha numeratore o 10 con angolo di 45 il rapporto tra questi due numeri è un numero reale perché l'argomento complessivo si ottiene facendo la differenza fra gli argomenti nella forma polare quindi argomento 0 e modulo 5 diviso 2 scusate 10 diviso 2 che fa 5 e radical 2 che resta denominatore che si sommo con questo più J5 radical 2 e volendo la forma polare anche qua molto semplice è radical 2 per 5 fratto radical 2 cioè 5 e angolo caratteristico di più 45 gradi perché ho la stessa parte reale stesso valore del reale dell'immaginario. Terzo numero allora io lo uso tantissimo in classe perché mi piace raccontare che quando i cateti stanno nella proporzione 3 a 4 il modulo sta nella proporzione 5 infatti è abbastanza evidente che 9 più 16 fa 25 e evidentemente quest'altro numero a modulo 10 che è il doppio perché ho moltiplicato semplicemente per 2 la parte reale della parte immaginaria e quindi hanno lo stesso angolo caratteristico che a memoria mi ricordo che vale 53 ma se non ve lo ricordate fate semplicemente arco tangente di 4 terzi o di 8 sesti e vi viene 53 gradi quindi numero complesso che in realtà si riduce a un numero reale che vale 0 5 o un mezzo se preferite l'ultimo calcolo sono due prodotti che poi vanno sommati il primo vabbè si tratta di fare j2 per 2 che fa più j4 j2 per j3 fa meno scusate più j4 6 ma siccome il j4 vale meno 1 diventa meno 6 qui attenti semplicemente che se io metto se noto che questo è in realtà radical 2 per 3 con angolo di 45 perché stessa parte reale stessa parte immaginaria modo radice di 2 per la parte reale o immaginaria viene fuori che questo prodotto vale radice di 2 per radice di 2 che fa 2 per 3 per 3 cioè 2 per 9 che fa 18 con angolo di 45 più 45 che è la somma degli esponenti che fa 90 gradi quindi questo di fatto è un numero immaginario pure che vale più j18 più j18 più j4 fa j22 e mi resta il meno 6 come parte reale volendo si mette anche in forma polare vabbè limite ve lo fate voi non è un grosso problema ok direi che abbiamo finito buon lavoro ci vediamo in classe spero che serva a voi ragazzi di terza o a chiunque fosse interessato a fare un po di ripasso ciao a tutti e buono studio